Sono scritti da persone, ma sono stati dettati da mondi cosmici e divini. Quindi i mondi cosmici e divini non ragionano come noi, loro ragionano in virtù della verità di ciò che siamo noi. Noi siamo esseri eterni, ma siccome non ci dimentichiamo le nostre vite passate, in realtà basiamo la nostra vita solo sui valori materiali che finiscono nel momento della morte. Quindi io posso aver accumulato immense ricchezze, nel momento della morte non ci portiamo via manco gli spilli che tengono i colletti delle camicie nuove. Infatti oggi sono venuto con una camicia senza colletto, così gli spilli tanto non li porto via. Quindi sono tutti ragionamenti pratici che però nel tran tran della ruota del criceto quotidiano che fagocita tutto, non riusciamo a soffermarci e a ragionare su questi semplici fatti. Infatti Gesù cosa ci dice? È inutile conquistare il mondo se perdi la tua anima. Quindi è vero che noi avendo un corpo abbiamo bisogno anche di materia, quindi di cibo, di acqua, di soldi, di vestiti. Ma se ci siamo incarnati, la nostra essenza spirituale deve manifestarsi anche nel mondo materiale. E secondo voi i politici sono quelli che manifesteranno una struttura sociale secondo lo spirito o lo faranno secondo i loro interessi? Andiamo un attimo a fare due ragionamenti sul settore politico. Mi spiegate perché Enrico Letta è parte dell'Haspen Institute e la Meloni è parte dell'Haspen Institute. Quindi cambi le facce, i miei poteri dietro sono sempre quelli. Ma il popolo di queste cose non sa nulla. E poi c'è la Lucia Annunziata, grande giornalista, nell'Haspen Institute. Abbiamo la Lily Gruber dei Bilderberg. Che fanno questi gruppi? Che consigli danno? Quali scopi hanno? Quindi come può esserci esercizio di democrazia laddove poteri transnazionali hanno in mano i nostri politici? Quindi il popolo viene ammannito di una valanga di escrementi, di notizie inutili e non sa nulla di com'è la realtà dell'organizzazione, della struttura del potere che ha in mano il mondo. E questo dà luogo poi a tutte le nostre sofferenze. Quindi questi testi, siccome sono un pensiero fatto da società che vivono anche a livello strutturale, le logiche spirituali hanno un potere intrinseco di formare nuove sinapsi e leggendo, rileggendo, rileggendo, di colpo ti accorgi che incominci a ragionare in modo diverso. Cioè stai formando in te l'uomo nuovo, uomo-donna. Quindi si parte sempre da un processo didattico di studio e dopo di applicazione. Se no, se io non studio sui libri, non posso fare l'avvocato. Adesso gira, va tanto per la maggiore il maestro interiore. Ma se il maestro interiore è un deficiente, avrò un maestro deficiente. Scusate, voi avete mai visto qualcuno? Ah, io non vado all'università, voglio fare l'ingegnere, ma io ho l'ingegnere interiore. Ma che dici? Bisogna andare a studiare. Figuriamoci nel campo delle scienze spirituali se un cretino c'ha il maestro interiore. Non c'è. Dov'è? Me lo fate vedere nella società, sto maestro interiore che edifica e risolve i problemi dell'umanità. Non c'è. Quindi sono castronerie e inganni nel quale cadiamo tutti facilmente perché è facile, è comodo. Invece noi, se vogliamo diventare ingegneri, dobbiamo investire soldi, tempo e fatica, studiare sui libri, andare all'università, dare gli esami e si diventa ingegneri. Stesso discorso per diventare persone in grado di gestire le scienze spirituali. Dobbiamo studiare e applicare, non andare dietro a teorie bislacche che poi non producono nulla. Perché dopo alla fine, dopo la grande sbornia dell'illusione emotiva, della pseudo-spiritualità, torni a casa, bollette da pagare, bambini che piangono, problemi col marito o con la moglie, e non li risolvi in quel modo lì. Li risolvi se conosci come funzionano certe leggi che governano la nostra vita. Quindi questi libri sono molto importanti perché hanno in sé i consigli e le istruzioni di popoli super-evoluti, provenienti dal mondo cosmico e divino, che ci insegnano come superare e vincere i problemi. E il primo problema da superare è in te. Sei tu. Il primo problema è quello perché l'uomo vecchio non vuole cambiare, vuole rimanere uguale a se stesso e pretende che arrivi un qualche Cristo che vada in croce al suo posto, perché è facile e comodo. Invece Gesù dice, prendi il tuo karma, pagalo e dopo avrai cento volte tanto. Perché quando Cristo ti dice, porta la tua croce, se non porti la tua croce non sei degno di me, ti sta dicendo di pagare il tuo karma, perché il Vangelo è impermiato su karma e reincarnazione. Quando Gesù a Pietro gli dice, chi di spada ferisce e di spada perirà, non è la legge di causa-effetto, cioè il karma? Quando a Nicodemo gli dice, Nicodemo, dovete nascere di nuovo se volete conoscere il regno di Dio, perché Nicodemo gli ha chiesto, signore, come può un uomo diventato vecchio tornare nel ventre di sua madre? Ci dicono il battesimo. Ma che c'entra un utero col battesimo? Oggi la scienza moderna ha scoperto che il corpo umano è un'acqua più pura dell'acqua del mare. L'acqua del mare è pura, a causa della presenza dei sali e dei metalli di scioltinesse, al 96%. L'acqua del corpo umano, liquida in molecole, è pura al 99%. Noi siamo al 99% fatti d'acqua. Quando quindi Cristo dice dovete rinascere in acqua e spirito, essendo Cristo il più grande scienziato, ti sta dicendo dovete rinascere nella materia e nel corpo, se no non conoscerete il regno di Dio, perché ci dobbiamo evolvere. Siamo bimbi divini, ancora sciocchini, perché siamo ignoranti, ci dobbiamo elevare attraverso il ciclo della nascita, morte e rinascita, ci dobbiamo elevare perché ogni vita è una scuola, dove noi attraverso le esperienze impariamo a distinguere il bene e il male. Questo è il processo della vita e sono tutti discorsi che in questi testi vi trovate ampiamente spiegati. Ovviamente in tantissimi altri testi, io non ho letto solo questi, dicevo ho letto i libri di Manuela, ho letto i libri della Giovetti, ho letto i libri di tantissimi autori, perché una volta che tu hai una base certa di indicazione formativa, dopo riesci a distinguere il bene dal male e il falso dal vero. Questi libri, per chi volesse informazioni ulteriori, vi potete scrivere anche a infochiocciolacosmicshop.it Grazie a tutti!